Benvenuti miei cari viandanti, ecco un immenso gaudio che quest'oggi vi accompagna in un natalizio viaggio nel tempo. Ma come sempre saranno i guitti a sancire l'inizio di questa attraversata. I mercatini di Natale qui in Germania sono tanti ed ognuno ha la sua particolarità. E questo qui di Esligen è proprio il mio preferito. Ed indovinate il perché? Perché si tratta di un mercatino di Natale medievale. Sì lo so, sono un po' fissato con la storia. Il mercatino di Esligen è davvero famosissimo qui nella zona e non solo. Un'occasione per vivere non solo la magia del Natale ma anche la fantastica esperienza di un viaggio nel tempo. Incorniciata nella piccola città fortezza di Esligen che potrete ammirare nel video dedicato che linkerò qui sopra, prende vita una rappresentazione di un mercatino medievale in piena regola, davvero ben fatto, con costumi e decorazioni diciamo storiche. Potrete trovare bevande del tempo come anche ricette storiche, ci sono delle zuppe davvero deliziose. Gli spettacoli offerti dai giullari e dei giochi medievali, come anche il lancio di asce, archi e diciamo giostre dell'epoca. Un'esperienza davvero unica. E qui potete vedere come io sono una schiappa in tutti gli sport. Non potete capire come quell'uomo diciamo cercava di insegnarvi a tirare con l'arco ed io, beh, diciamo che il centro ci sono riuscito a prenderlo mai. Per un paio di settimane Esligen ritorna nel passato regalando emozioni ineguagliabili ai suoi visitatori. Potrebbe vedere tanti artigiani che confezionano bellami o intagliano il legno proprio come si faceva in passato. Non si può non rimanere affascinati da questo mercatino. Non trovate la combo perfetta sarebbe andare vestiti con vestiti medievali, ma credetemi c'è davvero troppo freddo. E quindi, anche se non vogliate scuoiare un'intera ecreggio di pecore, vi consiglio di desistere. Tra le specialità che si possono gustare qui è il goulash, dicevo, davvero delizioso e il pane fatto a legno, come si faceva una volta, insomma, una delizia. Ma non solo piatti tipici, anche delle bevande, come l'idromele che si può trovare soltanto in questo mercatino di Natale. Ed è davvero buono, molto dolce ma saporito. Ma non solo un mercatino medievale, a Essling vi è anche il mercatino di Natale normale, con tante cose buone da mangiare, ma soprattutto tante cose bellissime da comprare. E quest'anno è stato anche particolarmente più esteso rispetto agli altri anni, insomma, per avere molte più idee per i regali di Natale. Si dice sempre che le grandezze non contano, ma non in cucina, mezzo metro di pura bontà. Bene viaggiatori, questo altro aspetto dei mercatini di Natale della Germania vi è stato impacchettato e donato con tanto affetto. Volete ringraziare? Benissimo! Allora mettete tanti mi piace qui su YouTube e non su Facebook. E condividete, condividete su tutti i vostri social, perché il Natale, come ho già detto, è condivisione dopo tutto. Ciao a tutti e soprattutto buone feste a tutti voi!